Anticipazioni Il Segreto, 20-26 agosto Carmelo uccide un uomo credendolo l'assassino Dimensia Anticipazioni Il Segreto lunedì 21 agosto 2017 Nestar tenta di dare il colpo di grazia ad Hernande Camila, però, lo ferma e gli promette di fuggire con lui Morì sì, ha intenzione di uccidere Cristobal, ma subisce un'aggressione Carmelo, ormai fuori controllo, uccide l'uomo che secondo Cristobal sarebbe l'assassino della moglie Grazie 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 a tutti